Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Negli ultimi giorni, la pista di Ballando con le stelle è diventata il centro di numerose speculazioni riguardanti un possibile flirt tra la conduttrice e attrice Bianca Guacero e il ballerino professionista Giovanni Pernice. Sin dalla prima puntata del programma, la loro sintonia ha attirato l'attenzione del pubblico e dei giudici, non solo per l'eleganza e l'intensità delle loro performance, ma anche per una crescente intesa che sembra andare oltre il semplice lavoro artistico. Ed è stata la stessa Guacero a confermare in un'intervista al Libero Magazine di essere single, lasciando la porta aperta a un possibile amore con il suo maestro. Ipotesi questa che sta diventando sempre più concreta. Nella puntata in onda ieri sera su Rai 1, Bianca e Giovanni hanno ballato un moderno sulle note di Nei Giardini che nessuno sa di Renato Zero, aggiudicandosi la vittoria della serata dopo aver conquistato la giuria che li ha premiati con voti altissimi. La loro esibizione è stata elogiata anche da Milli Carlucci, che ha detto «fusione di energia, tecnica, emozione, cuore, emozioni, il massimo di uno spettacolo, questa è la tecnica completa». Ma a porre l'attenzione sul loro feeling speciale è stata l'opinionista dello show Rossella Erra, che ha fatto parlato apertamente di alcuni indizi che farebbero pensare a un flirt tra loro. Il pubblico entusiasta ha alimentato queste voci sui social, con molti fan che si interrogano se la complicità mostrata in pista possa trasformarsi in una storia d'amore reale. Un'interpretazione particolarmente apprezzata dal pubblico è stata la loro esibizione di danza moderna sulle note di Nei Giardini che nessuno sa, che ha ricevuto il massimo dei voti dalla giuria, confermando l'eccellente affiatamento tra i due. I social sono stati invasi da commenti che esaltavano la loro alchimia e chiedevano conferme su un possibile legame romantico. Anche gli atteggiamenti tra le quinte non sono passati inosservati. I fan hanno iniziato a notare scambi di like e commenti sui social tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che non fanno altro che rafforzare le speculazioni. Non sarebbe la prima volta che una coppia nasce all'interno del programma e il pubblico segue con ansia l'evoluzione della situazione. Per ora né Bianca né Giovanni hanno confermato o smentito queste voci, ma le loro performance e interazioni continuano ad accendere i riflettori su questa possibile storia d'amore. Ballando con le stelle si prepara a vivere un'edizione ricca di emozioni e colpi di scena, con il pubblico che non vede l'ora di scoprire se tra Bianca Guaccero è Giovanni Pernice.